eccoci qua dovrei essere in diretta un attimo di pazienza per vedere se sta tutto a posto io le dirette di solito me le sparo sempre sul gruppo su facebook questa sarà la prima o la seconda diretta al massimo su youtube per cui non so come funziona la chat se riuscirò a visualizzarla o meno vediamo un attimo datemi solo il tempo di controllare allora lo stream pare che funziona analisi dello stream andiamo dai è inutile che sta a perdere tempo poi se funziona funziona se non funziona alla fine cancello tutto per cui è tanto che mancavo da facebook eh lo so però l'estate un po' me ne sono divertito io un po' mi siete divertiti voi in vacanza e giustamente in ferie per cui avevo rallentato un pochettino allora subito l'argomento di oggi oggi mi tocca fare un po' di manutenzione ai a un paio di coltelli da cucina giapponesi ovviamente adesso li metto qua e ve li faccio vedere un pochettino meglio e quindi ho detto vabbè ma perché non farla vedere c'è niente di c'è niente di particolare ecco qua questi sono i i due coltelli ah Antonio Bravo buongiorno Mauro allora vedo pure la chat vedo buongiorno Antonio scusa non mi ero accorto della chat che sta lì in un riguadrino piccolino piccolino però allora questi sono i due coltelli profonda differenza a parte del del tipo di lama ma proprio profonda differenza anche di qualità allora questo è un normalissimo cioè normalissimo è un bel santoguo sempre fatto a sakai sempre artigianale quindi vedete forse il bello è che non c'è la perfezione in acciaio aogami ripeto santoguo per cui un aspetta cerco di farvelo vedere è una lama con il doppio smusso mentre questo è un petti quindi un acciaio un tipo di coltello diciamo per loro piccolino multiuso la particolare ne ha due uno che è una lama di itsuo doi artigiano famosissimo figlio d'arte di un artigiano altrettanto famoso e l'altra differenza fondamentale l'avete già vista questa è una lama asimmetrica che ha lo smusso solamente da una parte da quest'altra parte invece è piatto che poi in realtà bisogna sempre ricordarselo che sembra piatto ma in realtà qui c'è una leggerissima concavità per cui anche quando si affila pochissimo da questo lato qui tocca solamente sul filo e sulla costa mentre qui dipenderà da noi dare la giusta inclinazione per per fare l'affilatura e c'è pure Alberto Mizioli ciao Alberto buongiorno anche a te suppongo che oggi ce ne avrò pochi delle persone che mi fanno compagnia sul gruppo è diverso è più facile comunque chiacchiero poco non so neanche da quale cominciare sinceramente se cominciare a perché poi l'altra differenza fondamentale è che questo costa un quarto di questo cioè la lama di suo è su è su anche come fascia di prezzo quest'altro che non mi ricordo pure qui lo sapevo il nome dell'artigiano però in questo momento non mi viene perché ripeto è sempre un'altra lama che viene da Sakai costa un pochettino costa un pochettino meno coltelli che hanno lavorato questi giorni per cui hanno perso un po' di tagliente hanno perso un po' di smalto la faccio veloce veloce cerco di farla veloce veloce devo trovare il posto dove appoggiare il coltello non è facile intanto mi si sa la faccio veloce perché perché vado con sì un metodo abbastanza tradizionale aspetta mi sto guardando intorno non so dove appoggiare il coltello nel frattempo allora aspettate qua c'è la botroncina ecco qua ho trovato il post Simone Negri ciao Simone un bel buongiorno popolo pure a te allora però senza starmi inventare le cose strane vado di sintetica anche perché ormai è inutile starsi a inventare i mega macelli i mega casini anche in Giappone anche i maestri più blasonati ormai affilano su sintetica la l'affilatura sulle naturali ormai la riservano solo a quei pochissimi pezzi iper pregiati e soprattutto sulle sulle spade ancora lì tutto il processo di lucidatura viene fatto su naturali benché anche lì stanno entrando le sintetiche le semi sintetiche o semi naturali cioè quelle come si dice quelle pietre da polveri naturali però ricostruite riassemblate in fabbrica per avere un'uniformità di lavorazione ah l'ultima cosa è veramente comincio intanto tiro fuori la pietra una delle pietre visto che è la prima volta che mi metto in live su youtube se cortesemente o Antonio Fraun Antonio Mizzoli Simone se qualcuno mi dà un piccolo feedback su video e audio così evito di di parlare a vanvera ok restringo un attimo pure l'immagine che sta sulla pietra potrei anche spostarmela no no lasciamo la forza all'angoletto che è meglio ok io nel frattempo no allora King 1200 forse non è proprio proprio la scelta migliore sicuramente sono soddisfattissimo della pietra perché è molto abrasiva e molto morbida avrei voluto prendere direi ottimi grazie Simone avrei voluto prendere la King 800 ma in quel momento non era disponibile a me non mi andava ad aspettare poi era preannunciato un arrivo via nave le navi isolente insomma King 1200 dopo di che passerò alla King 6000 forse un ulteriore passaggio su una naturale tanto per sfizio e tra una pietra e l'altra mi aiuto con una piccola piccola con un bestione di pad del stroppo fatto da Simone e Brigida tutte e due i lati in cuoio qui c'è una leggera passata di pasta e qui è cuoio pulito e qui non è che andiamo a cercare la dolcizza sulla pelle qui andiamo a cercare l'efficienza di taglio ok Alberto grazie anche per il feedback diciamo chiacchiere chiacchiere ma poi cominciare ok andiamo adesso si intravede la vaschettina con l'acqua allora il santoku il santoku quindi è un coltello a doppia smossatura quindi qui va cercato va cercato l'angolo quindi va cercato il giusto angolo per andare in appoggio sulla pietra lo vedete se io faccio toccare la parte chiamiamola nera il filo lo vedete come rimane sollevato qui bisogna andarsi a cercare la giusta angolazione e io la giusta angolazione però faccio un qualcosina che forse è anche sbagliato una volta fatto toccare il filo gli do ma pochissimo un po' di angolo in più cioè non intendo far lavorare la lama su tutto lo smusso vado a creare praticamente una specie anzi senza una specie vado a creare un micro bevel secondario non sarebbe proprio corretto non è proprio ortodosso perché su questo tipo di lame deve toccare tutto lo smusso principale però con questo piccolo accorgimento io creando un micro bevel praticamente devo andare a sportare meno materiale e tutto il processo diventa estremamente più più veloce il sistema di affilatura è sempre lo stesso forse ho posizionato male la webcam perché va davanti la mano ma comunque è la classica affilatura zone quindi la faccio rivedere un attimo impostazione inclinazione dopodiché con due dita vado a premere in un punto e affilo quindi adesso sto affilando la zona vicino al tallone quando decido che è il momento di cambiare mi sposto più avanti con queste dita e affilo l'altra zona dopodiché mi risposto avanti e via così scusate ho un fastidio in un occhio ma rieccomi nel frattempo chi ci sa Salvatore Milici Sebastiano Vaccarella ciao ragazzi a tutti quanti e dai che una botta sull'agapine si Alberto il dubbio era proprio quello mi sa che alla fine o lo faccio su questo o lo faccio su con con l'altro coltello con il suo toy che sinceramente merita merita un occhio merita un occhio di riguardo in più io nel frattempo sto andando chiaramente andando verso la punta c'è bisogno di alzare il braccio se non vedete o se vi da fastidio le immagini ditelo che provo a spostare la webcam magari la metto qua c'è entrata forse si riesce a vedere a vedere qualche cosa di più comunque vedete bello di lavorare sulle sintetiche le sintetiche sono veloci poi oltretutto queste king sono velocissime e molto morbide quindi non si corre proprio rischio di effettuare graffi pietre che da coltello vanno veramente vanno veramente veramente bene e costano niente le ho viste usare proprio su tanti video su youtube da tanti affilatori giapponesi e dico se il giapponese sui suoi coltelli usa questo tipo di pietra sarà mica scemo vedete materiale la limatura il materiale asportato aspettate un attimo quindi adesso prima strofinadina è chiaro sono coltelli già che erano già affilati dopo una settimana un paio di settimane di lavoro in cucina perché questi coltelli si usano allora vi faccio vedere un'altra cosa ma già lo sapete io magari dico le banalità perché c'è sempre qualcuno alle prime armi allora io in questo primo passaggio ho strofinato questo lato strofinando su questo lato l'eventuale bavetta è girata per cui si sente andando a carezzare l'altro lato il lato opposto a quello che abbiamo affilato andando dall'interno verso l'esterno quando si sente la bavetta vuol dire che siamo riusciti a lavorare sul filo quindi abbiamo creato del materiale che adesso andrà asportato sul filo ecco per esempio adesso mi accorgo che qui sulla punta c'è ancora da lavorare un pochino diciamo che da qui in giù invece le bavette si sentono bene per cui prima di cambiare lato me ne è arrivato un'altra volta sulla pietra cercando di insistere un po' su l'inizio del coltello vediamo un po' in vita così approfitto pure per controllare eventualmente la chat si vede bene è solo un po' piccolina quindi io ho problemi perché sono ciecato però ok vediamo un attimo quindi vedete ho affilato questo lato quindi adesso vado sotto sull'altro lato per andare a sentire la presenza di bavette e ci siamo solo un piccolo punto ancora qui ok non è canonizzato da nessuna parte però avendo affilato a zone io ho preso l'abitudine di fare prima del cambio diverso qualche passaggio che prende tutta la lunghezza del filo come a cercare di uniformare il lavoro ci siamo? quindi adesso si sentono le famose bavette quindi adesso che si fa? che devi fare? ha finito l'altro lato? deficiente pure io quando mi metto il principio è sempre lo stesso si va a cercare la giusta inclinazione mi creo l'inclinazione giusta che il filo tocca sulla pietra dopo di che alzo ma veramente poco mezzo grado qualche cosina tanto per farlo sto maledetto microbevel che vi ripeto è un mio accorgimento qualcuno lo fa ma anche qualcun altro lo fa cioè però guardate che l'affilatore ortodosso avrebbe fatto lavorare tutto lo smusso principale quindi creando un'unica un unico angolo niente niente microbevel altra cosa che mi sono scordato di dire però intuitivo occhio che soprattutto su queste pietre morbide la pressione va fatta in controfilo quindi in questo momento c'è pressione quando richiamo non c'è pressione altrimenti rischio di piantare il filo nella pietra quindi diciamo la la pressione sul filo che è che è robusta va fatta a verso di strop così ci capiamo tutti quanti altra cosa banalissima però già che ci siamo siamo in live dicendo altro consiglio è visto che le pietre sono molto morbide di non concentrare mai il movimento sempre in un punto ma cercando di di sfruttare tutta la superficie a disposizione anche qui qualche movimento tanto per uniformare adesso le soluzioni sono due o la bavetta si è tolta o si è girata dall'altra parte per cui ho affilato in questo verso la bavetta scusate ho affilato in questo verso quindi adesso la bavetta dovrebbe essere su quest'altro lato la vado a sentire ad uscire no è abbastanza sto sentendo il mordente del filo diciamo come al solito c'è da lavorare un pochettino di più sulla punta ma niente di particolare anche perché è la zona più lognosa da affilare perché per mantenere lo stesso angolo va alzato il braccio perché vedete qui il filo il filo curva quindi qualche colpo in questo lato qualche altro colpo in quest'altro lato in quest'altro verso però non mi piace come ho messo la webcam adesso la sposto ok spero che i commenti siano fermi e non siano bloccati perché mi dispiacerebbe però sembra che sembra che funzioni ancora per cui nessuno parla va bene così ok ci siamo allora veramente avevo preparato anche un po' di microscopio però non lo so se con il coltello riesco a a trovare una messa a fuoco io ci provo eh faccio vedere se posso se riesco è un po' un po' un po' scuro comunque da quel poco che si riesce a intravedere lo vedete il bevel secondario ripeto non si fa di solito io però in questo modo ho lavorato solamente con una minima su una minima porzione di filo e non su tutto quanto il bevel anche perché per lavorare su tutto il bevel avrei dovuto fare molti passaggi in più eh ad esempio ritorniamo un attimo qui avrei dovuto fare sicuramente un passaggio su una pietra specializzata per rifare la finitura casumi che c'è qui perché è chiaro che le pietre sintetiche tendono a lucidare adesso la linea di amon si vede bene perché c'è questa finitura casumi che fa da contrasto se avessi lavorato di piatto passatemi il termine mi sarei mangiato la finitura casumi che poi avrei dovuto rifare magari su una naturale tipo tipo luci comori insomma tanto per tanto per capirci aspettate che rimetto a bagno la pietra ah e così mi è venuta in mente anche un'altra cosa altra cosa comoda delle pietre king è che possono essere stoccate permanentemente in acqua cosa che io faccio perché lo trovo comodissimo adesso voi non lo vedete ma non inquadrata c'è un'altra vaschetta in plastica dove tutte le pietre che possono essere stoccate in acqua io le lascio perennemente lì ogni tanto vado a cambiare intanto mi faccio una spazzolata sulla pasta purtroppo ripeto non so come vabbè forse un po' in un verso parto dal tallone e arrivo verso la punta quando ecco ve lo faccio vedere da qua invece quando vado in quest'altro verso è dalla punta verso il tallone quindi tallone punta dalla punta a rientrare al tallone le macchiette che vedete acqua che mi ha sgocciolata adesso sopra ma nulla di che adesso non è che so giusto qualche passaggio per pulizia e allo stesso modo sul cuoio qualche passaggio per togliere dal filo qualche residuo di pasta basta basta così solo per tenere pulito il filo e presentarlo per bene alla prossima perda oh ragazzuoli è chiaro che qui non è che stiamo parlando dei rasoi quindi uno fa l'impostazione eccetera eccetera e poi il taglio bello lo deve avere alla fine qui usciti dalla mille il il coltello deve già tagliare non scherziamo arrivato a questo punto il coltello taglia adesso quello che rimane da fare è l'esagerazione è dargli quel qualcosa in più che contraddistingue le lame le lame giapponesi e anche qui come gliela diamo quel qualcosa in più ok ehi ma vi siete addormentali o se andiamo a prendere caffè no perché se andiamo a prendere caffè uno gradirei anch'io non c'è manco la branca moglie che sta a vedere il video che se no magari me lo portava lei ma sta facendo altro perché questa volta non avevo un saccoccio non gli posso manco mandare messaggi su tramite video ok vediamo che sta succedendo scusate sistema un attimo la visualizzazione qua sulla pagina ok ok pare che si veda tutto salvador non ti manco per scherzo io adesso stamattina a parte che lui come tutti i vecchiarelli ai 6 già stiamo in piedi io per un caffè potrei uccidere in questo momento a Antonio Sirate a me però fa piacere sapete qual è il discorso pur non è che non esiste però bello della live è la condivisione è lo scambio allora allora eccomi qua sempre king 6.000 stesse caratteristiche dell'altra pietra molto molto morbida molto dolce pastosa una pietra che sicuramente non grafferà mai un bevel quindi ottime pietre e tra l'altro vi ripeto andate a a vedere se vi va anzi voglio partire dal tallone guardate a guardare se vi va sono pietre tra l'altro tra le sintetiche anche a bassissimo costo quindi sono pietre molto indicate per l'affilatura del coltello ma costano veramente niente qui vedete piano 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 vedete le dita come si sono spostate partendo dal tallone e già sono arrivato quasi alla punta qua va alzato il coltello per fare per mantenere la giusta angolazione vedete che anche la 6.000 che è una pietra da lucidatura quindi con degli abrasivi molto più sottili eppure eppure a brade eppure il truciolo la limatura la porta la fa vedere quindi comunque è pietra da considerare veloce ciao nicolas bonjour a toi ecco qui io intanto farei ah mi sono bagnato tutto farei il primo controllo stesso sistema ho affilato su questo lato di sotto per cui adesso il truciolo dovrebbe dovrei sentirlo su questo lato chiaro che in questo momento adesso è un truciolo molto 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 sottile c'è e ce n'è pochino ok quindi senza allora chi è Alberto essendo pietre morbide le appare spesso sì sì anche perché sui coltelli le pressioni sono infinitamente più forti rispetto a quelle che siamo abituati a esercitare con i rasoi quindi la pietra morbida è veloce ma tende a scavarsi però diciamo non è che a ogni affilatura però diciamo ogni due tre affilature al massimo una passata ci sta c'è anche da dire però che essendo morbide è vero che si scavano facilmente ma è altrettanto vero che si lappano in un attimo io questa stamattina io ho fatto un po' io ho fatto un po' di manutenzione direttamente sulla diamantata ho preso la dmt ho preso la 320 perché il problema poi non è neanche tanto rispianarle il problema è che oltre a scavarsi si saturano si caricano di di limatura che la vedete guardate non si toglie rimane la limatura incastrata nel nel piano di affilatura quindi c'è bisogno di scaricarle per ridargli vita quindi si si lappano spesso ma io oggi in dieci minuti non lappate uno due tre quattro non lappate cinque quindi un paio di minuti a pietra una bella strofinata su una diamantata ripeto io ho usato la dmt320 però stavano già in buone condizioni quindi anzi se uno le lappa spesso vedete vedete il filo come è lucido cerco di di trovare l'angolazione migliore non so se riesco a farlo vedere per bene ma è un filo lucidissimo veramente lucidato a specchio dovete guardare solamente la parte finale perché è lì che guardate sulla punta se riesco cioè è veramente specchiato a questo punto ragazzi l'affilatura è è finita va giù va giù e la cosa a cui bisogna prestare attenzione è anche il rumore che fa il coltello al taglio più è affilato e meno rumore deve fare ho mandato di vecce le cartate per tutto quindi proprio ci siamo? ok io so che voi volete vedere la capina al lavoro però la capina al lavoro ah e manca la stroppatura adesso per fare presto lo stroppo alla fine magari quando la live è finita perché adesso change quindi rimetto via la 6000 vado a riprendere vado a riprendere la king allora veloce veloce velocissimo bottarellina tanto per pulzia non non per creare fanghiglia quindi per scaricare la pietra come avevo detto quindi grattatina alla parte superficiale prendo lo spruzzino dell'acqua chi ha l'acqua corrente usa l'acqua corrente adesso prendo lo spruzzino e vado a togliere a pressione la fanghiglia che sarà fatta sopra che qui con i coltelli nix fanghiglia allora adesso invece affinatura del coltello asimmetrico allora tutta 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 l'affilatura del coltello asimmetrico va fatta dal lato dove c'è lo smusso e poche pochissime passate sul lato piatto perché vi ripeto in realtà non è piatto ma è leggermente ha una leggerissima concavità e se si perde quella concavità il coltello non si affida più quindi bisogna limitare al massimo l'usura dal lato senza lo smusso chi è entrato Lorenzo buongiorno a te io ho sempre il terrore il terrore mi dispiacerebbe che state scrivendo e magari per qualsiasi motivo mi se blocca la chat e non riesca a rispondere no ce l'ha uno in live che ci si è messa a fare cazzo è tutt'uno allora altra differenza quasi fondamentale è che mentre sul lato con lo smusso si affila con la lama in diagonale rispetto all'asse della pietra quando si va a lavorare sullo smusso si va a lavorare invece ad angolo retto per cui il movimento corretto per il lato non smussato è questo sto dando solamente una leggerissima passata ma veramente leggerissima ok mentre la posizione corretta per affilare sullo smusso è 45 gradi allora lorenzo la pietra è la normalissima sintetica della king questa è una king 1200 ma se qualcuno ripeto se qualcuno perché qua c'è un motivo per cui sto lavorando con la 1200 se qualcuno se qualcuno ha intenzione di comprare pietre per l'affilatura del coltello la pietra più indicata non è la 1200 ma è la 800 sempre della king che abbrate ancora quel zinzino di più quel zinzino più veloce non è aggressiva non grana 800 su un coltello è una grana normalissima quindi magari noi che siamo abituati più a discutere sulle grane da rasoio grane così basse sotto il 1000 ci sembra diciamo madonna ha finito un campo arato e invece no sono pietre docili si gestiscono si gestiscono bene non hanno non creano problemi io prima o poi con tutta la calva di questo mondo visto che anche questa 1200 funziona bene se mai dovessi fare un ordine in quel negozio questa mi sembra che avviene da utensili professionali se dovessi per qualsiasi motivo andare a comprare qualche altra cosa da utensili professionali la la 800 la metto nel carrello andare a comprare direttamente la 800 avendo la 1200 no non serve vedete che comunque sono pietre che richiedono tanta acqua queste pietre sono mesi che stanno fisse nell'acqua però vedete che lavorando lavorando l'acqua comunque va riaggiunta sono pietre che danno il meglio quando grondano devono essere veramente impregnate d'acqua l'acqua gli deve fare anche dal proprio lubrificante sul piano di affilatura sul piatto di affilatura per far scorrere il coltello una pulita al coltello e un'asciugata al coltello ok vedete comunque il livello d'abrasività o calcolate che questo è tutto un altro acciaio è sempre un Aokami quindi un acciaio carta blu ma è molto molto duro gli spessori in gioco sono diversi guardate lo spessore desta lama molto più pesante questo coltello più rigido rispetto rispetto all'altro ok poi vediamo di sistemare anche il bevel vedete purtroppo cosa fa la pietra sintetica purtroppo mangia la satinatura qui poi non ve lo evito perché è una cosa lunghissima ma qua io mi metterò con le pietre da dito con lo shikumori da dito e così mi vado a risistemare anche l'estetica con voi sto facendo solo l'affilatura perché risistemare l'estetica con lo shikumori è bello ma è lungo perché parliamo di pietre da un centimetro con un centimetro un centimetro quadrato quindi proprio pietra da dito finger stone si appoggiano sulla parte che si vuole correggere si tengono premute io di solito uso il pollice e me ne vado avanti però è una cosa è una cosa lunga allora Alberto Mizioli stando sulle naturali cosa ne pensi in una scaletta a macusa tushima per coltelli allora sicuramente la macusa si ma ho fatto diverse di prove con le naturali io addirittura la macusa per i coltelli uso la macusa rossa cosa che per il latoglio ho detto sempre lasciate perdere però la macusa rossa è ancora più aggressiva è un 800 più o meno perché le pietre naturali purtroppo sono lente i coltelli di qualità con tempri rigide però prendono dei fili che sono una meraviglia prendono dei fili che sono una meraviglia quindi sì la macusa intorno al 1000 ci siamo la tushima allora come il livello di finezza e il risultato del filo sarà sicuramente un filo tagliente occhio che la tushima però non ti fa vedere una cosa bella perché non è né molto satinata né molto lucida la tushima è una bestia da lavoro io la uso spessissimo ma perché ha grosse capacità in affilatura esteticamente non è delle migliori quindi a questo punto a macusa tushima sì ma se hai un'altra pietra da finitura e il coltello merita io farei un ulteriore passaggio magari salendo un po' di più anche per dargli quel quell'estetica migliore ripeto a meno che non stiamo parlando di un coltello X qualsiasi acciaio inox come se ne vendono tanti che vi posso dire un ottimo coltello ottimo acciaio sono quelli che usano la sanelli no? ottimi acciai ottimi coltelli bellissimi fili però con quel manico di plastica verde con le bordature rosse rosa non è che uno deve stare a pensare tanto all'estetica allora sì la finirei la finirei con la sushima senza preoccuparmi senza preoccuparmi più di tanto allora le solite passate dopo aver affilato a zone le solite passate per andare a uniformare il lavoro fatto a quello che non ho detto scusate questo è importante ve lo devo far vedere che mentre col doppio smusso mi sono permesso di creare il doppio bel il doppio bevel qui lavoro su tutto lo smusso principale quindi qui l'angolo è quello imposto dall'artigiano per cui basta appoggiare il rasoio sullo smusso che ha voluto imporre il fabbro in costruzione quindi l'angolo questo tipo di coltello lo trova da solo c'è nessun problema allora allora eh sì con quella parte di grezzo con la finitura casumi il coltello ne prende tanto per cui vi ripeto adesso è molto più brutta per quello c'è necessità di andare a prendere luci cumori e andarla a rilucidare cioè no a opacizzare uniformemente di nuovo poi sicone negli che dice non hai provato l'affidatura ai coltelli ovvio certo che sì io su Arkansas mi sono trovato bene anche io mi sono trovato benissimo anzi devo dire che con i coltelli parecchie pietre parecchie pietre fanno grandi finiture sicuramente le Arkansas magari bisellando con la washita Arkansas soft e Arkansas dura ma anche le Candia c'è se bisella e ci si rifinisce molto con molta semplicità ripeto io sui coltelli tradizionali voglio andare con l'affidatura tradizionale per cui adesso così come fatto prima intanto così come ho fatto vedere prima usciti dalla 1000 coltello taglia non è che bisogna aspettare no aspetta saliamo di grit lavorato finendo di lavorare sulla 1000 coltello deve tagliare anche qui stesso lavoretto purtroppo ragazzi non non so come metterla per farvela vedere ma comunque è il solito gioco che vi ho detto in un in un lato d'altro eh però aspettate che sto scomodo e con questo coltello non voglio rischiare niente allora anche qui la maggior parte del numero di stroppature va tutto sul lato dello sbusso ripeto sono solamente pochi passaggi di pulizia eh ecco qualcuno solo qualcuno sul lato piatto basta basta riprendiamo il supportino e anche qui non ci andiamo a riprendere allora a macusa bianca a me si scava tanto come ne ha avvisato Marco Ciccarelli vabbè lo sapete poi ogni pietra eh io devo dirti la verità aspetta eh mi sposto a far travedere là dietro al piano basso lì c'è c'è la macusa bianca e la macusa rossa a me la macusa resiste resiste bene non è non è morbida come pietra quindi non mi si scava particolarmente si scava infinitamente di meno la macusa rispetto a una di queste pietre qua ma infinitamente allora pure qui una srofinata solo per ravvivare togliere la limatura che aveva lasciato l'altro coltello quindi non per fare fanghiglie strane anzi avete che c'è faccio la vaschetta ma pulisco qui che faccio prima ecco qui quindi come prima 6000 e andiamo prima la punta tenendo il coltello un po' più alzato vedete pure la 6000 come che bella capacità di abrasione che ha calcolate che il coltello questo ha una temperatura questo è un acciaio veramente duro adesso non vi voglio dire una cavolata perché dovrei andare a memoria ma comunque è una tempra sicuramente sopra il 60 hrc sulla scala hrc quindi adesso non mi ricordo se è 61 62 non me lo ricordo però è sicuramente la tempra dura allora anche qua movimenti la pressione solo nel verso dello stroppo questo è solo richiamare altrimenti rischiate intanto di rovinare il filo ma rischiate poi la cosa bruttissima che il filo potrebbe entrare nella pietra e lì fare danni alla pietra magari chi se ne frega ma spezzare un filo di un coltello del genere poi uno uno poi piange lacrime amare eh io sto coltello io li uso li uso in cucina perché con i rasoi posso anche capire la collezione ma il coltello da lavoro il coltello da cucina deve lavorare deve lavorare in cucina per cui li uso li uso spesso e un po' mi dispiace certe volte però hanno delle capacità di taglio meravigliose se state adesso fino a qualche settimana fa quando il caldo era quello asfissiante era quello soffocante tagliare un cocomero e andare giù col polso morbido andare giù come se si stesse tagliando una banana ci rimani ti ritrovi a sorride non ti accorgi manco ok sto andando un po' adesso a passate lungo tutto il filo il solito sistema dopo aver affilato a zone adesso cerco di uniformare il risultato vediamo un po' ok anche qui pochissime passate allora devo farci la mano e conoscerla meglio Simone no no non ho detto questo Simone attento o so io che non riesco a spiegarmi bene probabilmente la tua amacusa sarà un pelino più morbida della mia cioè non stiamo parlando di naturali è chiaro che i comportamenti tra due pietre stessa stessa tipologia stessa cava non è detto che si comportino nello stesso modo nello stesso modo cioè se tu magari hai in mano un un livello tre tre e mezzo di durezza la mia è quattro per esempio ma sto facendo un esempio è ovvio che poi alla fine la mia se scavi un po' di meno rispetto alla torre si scavi più lentamente quindi non è che ci devi fare la mano certo poi migliorare la mano va sempre bene per carità ah che bella cosa prima ancora pure questo pure questo passerà passerà allo stroppo pure questo ma va più che bene adesso tanto pesfizio non serve avete visto che non serve visto che c'è eccola qua che prima o poi mi dovrò decidere a fargli una base seria a sta capim che c'ha il fondo molto irregolare una base affondarla nel silicone affondarla nella resina per metterla in bolla mi aiuterebbe pure tanto nell'affilatura lo dico lo dico non lo faccio mai ok ragazzo finitura no non taglia tanto bene non è papà che lo sapete io non so capace affilare quando mi faccia la barba il rasoio mi faccio affilare da un altro allora pure qui qui vado leggero vado a mettere ma un minimo 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 di pressione solo nel verso della stroppata qui adesso stiamo veramente facendo un giochino perché ai fini dell'affilatura era già affilato prima così tanto per la soddisfazione di avere una lama giapponese affilata su una pietra naturale giapponese ma solo per quello vedete passando dalle sintetiche alle naturali come cambia la velocità delle pietre cioè a me mi fa morire parecchia gente quando parliamo di pietre da rasoio sempre naturali senti ma la velocità di quella senti ma la velocità di quell'altra ma chi affila su naturali se ne sbatte le palle della velocità perché chi vuole la velocità va con le sintetiche pure qui se andiamo a guardare la vedete guardate un po' di rimatura la vedete guardate adesso che cola c'è ma uno non va a prendere la naturale per quanto è veloce perché non esiste una naturale al mondo veloce come una sintetica no vai a prendere la naturale per la qualità del taglio per la qualità del filo per il tipo di finitura che ti dà per l'estetica per chi va cercando le naturali che lucidano chi va cercando le naturali che fanno invece finitura satinata ma tutto meno che per la velocità allora Antonio che dici oltre alle king se dirci altre marche di pietra che possono stare stoccate in acqua guarda sinceramente non lo so so il contrario quelle che non possono stare stoccate sono quelle che hanno elegante a base di magnesio lì infatti si raccomandano pochi minuti in acqua sono sicuramente tutte quelle dichiarate splash and go io le indicazioni le ho trovate scritte proprio sul sito del venditore fortunatamente dava tanti dettagli allora io già cercavo le king perché già quando ho aperto quella pagina web andavo alla ricerca delle king che avevo visto utilizzare su tantissimi video su youtube quando poi ho letto nella descrizione generale delle pietre pietra che può essere stoccata permanentemente in acqua ho fatto mia guardate faccio un macello ma c'è proprio a vedere quella vaschetta cerco di alzare aspetta abbasso il vedete questa porta tutte le sintetiche che possono essere stoccate direttamente in acqua io devo ritrovare e da là non le muovo mai ogni tanto cambio l'acqua e faccio manutenzione perché chiaro poi le rimetti la sporche quindi dagli e dagli l'acqua diventa melmosa e stop e va sicuro che è una grandissima comodità è veramente una gran comodità ecco qua ok po' di passare lunghe ad uniformare qualcuna ancora di qua basta ci vediamo ok ultimo commento è antonio vediamo vediamo perfetto e calcolate che poi c'è pure un po' di stroppatura da fare vedete a un po' un po' così ok ragazzi qui siamo sul nostro gruppo qua siamo su youtube è una live è spaccata l'ora adesso per cui faccio vedere voglio vedere se riesco a farmi mettere a fuoco vedete la lucidatura del bevel solo del bevel siete la differenza tra i due acciaio adesso quando avrò ripristinato la finitura kasumi sarà ancora più evidente la linea di diamon però insomma ecco guardate quanto lucida e qui riuscite a vedere gli unici due punti microscopici lo vedete dove tocca questa è la dimostrazione che il lato non è piatto vedete tocca qui e ritocca qui lo vedete la parte quanto è più lucida in tutta la zona centrale non tocca per cui mi raccomando se comprate coltelli asimmetrici non insistete più di tanto anzi non insistete per niente sul lato piatto solamente poche passate per togliere l'eventuale ricciolo che si forma la bavetta che si forma quando affilate sul lato smussato allora Nicola Gregor ciao Marco vabbè Mauro è uguale una domanda esiste una sorta di addolcimento anche per i coltelli tipo coramella sicuramente sì sarai entrato da poco in live perché non l'hai vista non è un problema te la faccio vedere ma ripeto ma più che addolcimento è pulizia perché noi la dolcezza del filo andiamo a cercare sul rasoio sul coltello andiamo a cercare il massimo dell'efficienza è un filo lucido tirato pulito allineato è un filo maggiormente efficiente eccola qua questa me l'ha fatta Simone Brigida talmente lunga che non entra in tutta l'inquadratura infatti mi c'è Mauro per Branca Guadez qui sotto mi c'è messo il segno di un paio me l'ha fatta un'immaginetta di un paio di coltelli giapponesi e questa è una normalissima tavola il lato cuoio normalissimo groppone di toro niente di particolare bello rigido spesso un buono spessore di di pelle scusate anche qui questo è il lato che io uso con le paste ma era il gemello di questo era un lato di pelle ci ho passato sopra un po' di pasta per cui tra una pietra e l'altra ogni passaggio di pietra per fare un po' di pulizia pasta e cuoio per pulire il filo e poi sicuramente alla fine di nuovo pasta e cuoio l'unica cosa attenzione non usate le coramelle perché i coltelli si stroppano sul rigido si stroppano sul duro per cui coramella strapon se ne parla proprio ma anche la coramella a telaio comunque per quanto volete tirare la pelle al passaggio del coltello tende ad abbassarsi quindi fa perdere un po' d'efficienza il filo che abbiamo creato quindi il cuoio incollato direttamente sul legno senza nessuno spessore nessun sistema che possa ammortizzare quel minimo di ammortizzazione gli era dall'altezza del cuoio ripeto cuoio lato pasta snake led questo è il simbolo di Simone Brigida vabbè che c'è scritto ecco c'è proprio scritto qui e questa è per il Branca Valerzo per il gruppo per il gruppo di di Facebook semplice pure qui l'affilatura del coltello non c'è il terzo segreto di Fatima da sapere c'è da ricordarsi che visto che parliamo di lame lunghe affilatura a zone quindi faccio pressione su questo lato poi mi sposto poi mi risposto alla fine io faccio dei passaggi così da andare ad uniformare tutto quanto il lavoro niente di che su questo tipo di lame asimmetriche tutto il lavoro va fatto dal lato dello smusso e pochissimo quasi nulla dalla parte piatta perché sembra piatta ma piatta non è e se diventa piatta sono dolori lame invece simmetriche con il doppio smusso anche questa guardate adesso poi è sporco c'è da lavarlo il coltello ma anche qui la linea di Amon vedete quando la ho ripulito ripareggiato guardate se riesco a giocarci con la luce come lucido il filo rispetto al resto vedete forse qua si vede meglio purtroppo è sporca ancora dei fanghi della pietra qui invece l'angolo ve lo dovete andare a cercare voi quell'angolo minimo che faccia toccare il filo sulla pietra e poi va mantenuto fermo il polso muovendo solamente invece i gomiti muovendo solamente le braccia bisogna cercare di non cambiare l'angolazione e Nicola scusami di che capita complimenti pure di che stiamo raccontando una marea di banalità tutti lo sanno ogni tanto una rinfrescatina non fa mai male se qualcuno ha qualche dubbio ben venga era più lo sfizio di per me di provare la live direttamente su youtube visto che risolvi le live invece me ne sparo quattro a settimana ma tutte sul gruppo belle in privato e con gli amichetti miei però dico cazzo allora l'hanno fatto il live streaming su youtube fammelo ragazzi io ho finito cioè non ho finito adesso devo cominciare il lavoro con le uscicumori per uniformare la finitura kasumi levargli quei segnacci fatti dalla sintetica però è un lavoro lungo è un lavoro che ci vorrà non meno di un'ora per farlo perché ripeto si va avanti piano piano con le finger stone quindi con le pietre da da dito non ce l'ho neanche a portata di mano per farvele per farvele vedere comunque sono pietre ecco aspettate eh questa è l'uscicumori aspetta leviamo un attimo l'agabino la metto qua così va pure a fuoco la vedete pietre che vengono lasciate volutamente eh grezze perché qui con uno scalpello e un martelletto vedete qua già io ne ho levato un pezzo non so se si riesce a vedere ma si lo vedete con scalpello e martello si tagliano delle piccole scheggette che poi si incollano su una garza e piano 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 si raffinano fino a farle diventare molto molto sottili quasi flessibili dopodiché queste piccole aspettate un attimo ecco mi sa che le ho messe in un vasetto per non perderle comunque il principio è questo è quello della scaglietta questa vabbè non c'è tra niente questa non è uno cicumori ecco questa è la parte la parte iniziale del lavoro poi su un lato si incolla una tela una garza qualsiasi livello della mia dedicazione poi si comincia a strofinare su una pietra un po' più grossolana fino a ridurre di molto questo spessore farlo diciamo deve diventare la metà devono essere molto piccole e dopodiché si vanno ad appoggiare solo dalla parte dove vogliamo la finitura così la finitura casumi la finitura satinata tanta pazienza ma alla fine c'è serie insomma però è un lavoro lungo lungo e pure noiosetto per cui ve lo evito dopo un'ora e dieci di diretta io vi ringrazio per avermi fatto compagnia la diretta la interrompo qui chiaramente poi la lascio pubblica su su youtube penso il tempo ad aggiungere i titoli di mettere i tanti dalla sistemata al video quindi grazie a tutti per per la compagnia che mi avete fatto come al solito chi mi conosce lo sa ciao popolo a tutti quanti e ci vediamo ci ribecchiamo in giro anzi se mi venite a trovare sul canale o sul gruppo facebook non non mi dispiace per niente ciao popolo un saluto a tutti quanti termina